Presidente Riccardi, oggi la visita all'ospedale di Lattisana, importanti novità per quel che riguarda l'organizzazione dell'ospedale? L'ospedale di Lattisana aveva bisogno di alcune certezze, in particolare in alcuni settori, quindi è chiaro che il ragionamento è complessivo, però la prossima settimana la Direzione Generale bandirà i concorsi per i primari di anestesia e del pronto soccorso. Mi sembra una risposta chiara rispetto alla certezza di alcuni servizi e anche alle funzioni che un ospedale come Lattisana per la sua storia e per la sua collocazione deve avere. Presidente, anche oggi ha ripetito le tappe della riforma, del cambiamento della governance della sanità regionale, confermato dicembre e quindi un programma che sta andando avanti, abbiamo visto un incontro con i saggi due giorni fa, in anticipo rispetto ai tempi previsti. Noi contiamo nell'arco di quest'anno di chiudere la ridefinizione dell'assetto della governance per poi dedicarci alla pianificazione sanitaria, quindi il nostro obiettivo è riuscire nel corso di questi mesi a intavolare una serie di discussioni con il mondo del servizio sanitario, con il sistema istituzionale locale e con le forze politiche per arrivare poi a quella che noi riteniamo debba essere la nuova fase che poi avrà bisogno dell'approccio organizzativo ma anche di una nuova legge che riguarda la pianificazione sanitaria. Ultima domanda riguarda proprio questo, l'approccio con gli enti locali, oggi parole importanti da parte del sindaco di Lattisana che ha riconosciuto un approccio da parte dell'amministrazione regionale corretto per cambiare la sanità. Io credo che un servizio sanitario che ha alla base l'integrazione sociosanitaria abbia a che fare con i professionisti della salute e abbia a che fare con i tempi sociali dove abbiamo sempre detto il sistema degli enti locali, quindi i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali sono pilastri fondamentali senza i quali non si può pensare di impostare un lavoro di questo genere. Poi possiamo avere anche delle idee diverse, però la discussione ci deve essere. Sindaco, oggi la visita del vicepresidente Riccardi e del presidente Zannin assieme ad altri consiglieri all'ospedale di Lattisana, un approccio che lei ha definito corretto e anche una buona notizia per quel che riguarda l'organizzazione dell'ospedale. Infatti apprezzo sicuramente l'approccio del vicepresidente, assessore della salute Riccardo Riccardi proprio perché ha cominciato dall'ascolto dei territori, dall'ascolto dei cittadini, dall'ascolto degli amministratori, degli operatori e quindi credo questa sia la strada giusta proprio per anche pensare di applicare una nuova riforma. Notizia importante di oggi è stato proprio quello che, dalle parole del vicepresidente dell'istituzione dei due concorsi per il primario dell'area di emergenza e dell'anestesia, questo credo sia un importante segnale proprio per far capire che questa nuova maggioranza regionale ha intenzione di investire sull'ospedale di Latisana. Ripeto, il nostro ospedale è un ospedale che ha una valenza, essendo al confine, ha una valenza strategica sia per quanto riguarda l'attrattività dalla vicina regione Veneto e sia anche per quanto riguarda la presenza della più importante industria turistica della regione che vede milioni di presenze di turisti durante la fase estiva. Quindi non posso dire altro che essere soddisfatto dell'incontro odierno e adesso attenderemo l'applicazione di quello che oggi si è detto.